È una situazione grave che noi portiamo da ben 7-8 anni, parliamo di anni, siamo stati 14 mesi che siamo stati veramente senza percepire un Euro, non so chi ha dato questa forza a noi di ancora reagire e di sopportare soprattutto queste cose. Noi abbiamo finito di pagare il mutuo il 2011-2012 di circa 543 Euro cada uno e poi per la fine prendendo mensilmente quando veniva data questa maledetta busta paga, ogni 2-3 mesi, sempre esaltuariamente, andare a prendere poi un 500-600 Euro a testa dopo 2-3 mesi. Non ho fatto e non voglio fare politica che questa lettera giustamente per far vedere la verità che noi abbiamo pagato questo mutuo che è stato riportato alla Ergon e la Ergon l'ha passata al comune di Polla e il comune di Polla l'ha scaricata sui dipendenti Ergon che fanno servizio a Polla. C'è stata vicina molta gente alla cittadinanza pollese e soprattutto faccio un plauso a Antonio Coppola non come politico e soprattutto come amico. Noi non sappiamo oggi di chi facciamo parte, non sappiamo da che parte ci stanno giocando, so solo dire che ci stanno usando come oggetti. Io ho avuto una riunione circa due mesi fa con i miei colleghi, è stata fatta al comune di Polla con il commissario Siano e il commissario Mantea dove noi siccome aspettavamo le 2-3 mensilità del 2011-2012 che ci aspettano con 13esima e 14esima, sono circa 6 mila Euro, con una promessa che passava un mese, ma purtroppo sono passati due mesi e ancora non abbiamo visto niente.